ah buongiorno buongiorno concetto buongiorno mamma mia che rumori di scatole stanno tommendo quasi bene e chi lettonino che è bene qua si carica come un ciuccio ogni volta e puntualmente faccare tutte le pacche li consegna tutti quanti ammaccati ai clienti però lo facevo pure a casa mia pure a casa mia sempre ammaccata a casa mia speriamo che il direttore aggiusta tutto se no questa sarà la mia nuova casa anche se il letto è un po' scoperto ma quello il direttore deve aggiustare tutto non ti preoccupare quello parla con tua moglie si risolve tutto e poi si sta trovando pure un lavoro speriamo bene speriamo bene senti mi vorrei sdebitare in qualche modo però no ma che sdebitare non ti preoccupare si si mette a fare pure qualche servizio non lo so ma quando mai quella viene la signora delle pulizioni ogni giorno non ti preoccupare faccio il caffè ma non ti preoccupare anche se io non capisco questa caterina che cos'ha che direttore non le piace ah non capisci ma è così carina ma si è così dolce ma così bella proprio che non lo so e senti una cosa se oggi pensate facciamo così no mi sono scordata che oggi faccio per la signora Repoli si pulisci